La Cina si dice scioccata da quanto è successo a Kabul in diretta da Pechino. Andiamo dalla corrispondente, Giovanna Botteri. Proprio da Pechino la condanna immediata dell'attentato e questo termine scioccata. La Cina è scioccata dopo l'attentato e per la prima volta dice ai suoi, ricordiamo l'ambasciata cinese è rimasta aperta e funzionante tutto il tempo, nessun cinese è stato evacuato, ma per la prima volta, questo è il portavoce del Ministero degli Estri, per la prima volta si dice ai cinesi in Afghanistan non uscite di casa. La situazione è pericolosissima, la situazione è davvero grave in questo momento e Pechino apre alla comunità internazionale. Lunedì l'ambasciatore cinese alle Nazioni Unite incontrerà lo statunitense, il francese, il britannico e il russo per definire un'azione comune, perché è necessario, ripete Pechino in questo momento, un'azione comune della comunità internazionale per sconfiggere il pericolo terrorista che si profila sull'Afghanistan. A te la linea. E decollerà nel pomeriggio.